Alex Zizamia Ruolo? Difensario centrale A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? Sergio Ramos, perché mi piace come gioca e che ha il filo Qual è il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Giuliano Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? I miei pregi sono la velocità, l'elevazione e i miei difetti sono la resistenza, la fisicità e la tecnica Qual è il numero di maglia che preferisci e perché? Preferisco il 4 perché è sempre stato il mio numero La materia scolastica che ti piace di più tranne ginnastica? Inghilese Che cosa rappresenta il calcio per te? Divertimento Per che scuola fai il tifo? Juve